L'esperienza del confinamento è stata un'esperienza per tutti noi straordinariamente importante, la si può leggere da molti punti di vista. Si potrebbe soprattutto sottolineare il suo valore simbolico, il suo valore di rivelazione. Dal tutto e pubblico del 68 siamo giunti ora, al termine di un trentennio ultra-riberista globale e all'insegna delle privatizzazioni, al tutto è privato. Ci siamo trovati chiusi in un guscio solo nostro, chiusi letteralmente ognuno nel proprio privato. Abbiamo sperimentato fino in fondo l'impotenza di questa privatizzazione di ogni cosa. Famiglia contro famiglia, Stato nazionale contro Stato nazionale, interesse contro interesse. L'illusione della connessione continua non è bastato a nascondere la percezione nitida di una tremenda solitudine, in cui ognuno doveva salvarsi da sé combattendo rischi, malattia, povertà, con armi piccole, come sono quelle singole, armi inadeguate e impotenti perché non collettive, appunto private. Ma, come dice un celebre verso di Hölderlin che Daniela Brogi ha scelto per il titolo della sua lezione di questa serie, là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che è salvo. In questi mesi, in cui il privato ha assunto una dimensione estrema, abbiamo forse compreso più profondamente l'importanza dello spazio pubblico, l'importanza della pubblica via, della chiesa monumentale, non per il suo valore religioso, ma civile, il parco, quindi il paesaggio, l'ambiente, abbiamo capito che tutte queste cose sono più che semplici contenitori, sono, potremmo dire, la nostra anima comune, collettiva, la nostra identità democratica. Un'anima che si specchia in un modo speciale nelle piazze. È stato scritto in un bel saggio del 1959 su Città e Piazza che l'abbondanza di piazze in Italia si spiega per un misto di condizioni climatiche e attitudini del popolo. Roma è la città che associamo l'idea di piazza perfetta. L'importanza della dimensione della vita pubblica in Italia ha determinato la nascita e lo sviluppo di questa tipologia urbanistica. Attraversando nei giorni del confinamento le grandi piazze italiane, deserte dunque così simili a quelle delle città metafisiche di Giorgio De Chirico, si poteva vedere quasi a occhio nudo l'intreccio profondo che da noi lega lo spazio e la comunità. Politica viene da polis, che in greco viene città, come è ben noto. Il medioevo delle libertà comunali, delle città la cui aria rende liberi, si diceva in Germania, costruisce le piazze che ancora oggi danno forma al nostro immaginario. Pensiamo forse a quella che è la più bella d'Italia, la piazza del campo, il campo di Siena. Un grande teatro capace di accogliere tutta la cittadinanza. Una piazza che ha la forma nel manto della Vergine, divisa in nove specchi a ricordare il governo dei nove, ma soprattutto è la scena dell'autocoscienza civica, potremmo dire un primo emiciclo parlamentare. Rappresentarci come comunità vuol dire rappresentare le nostre piazze. Quando Giotto, nella Basilica Superiore di Assisi, costruisce la lingua pittorica degli italiani, dipinge, nelle storie di San Francesco, la prima immagine riconoscibile di una piazza italiana. Non un spazio vago inventato, ma la piazza del comune di Assisi, cioè quello che era il centro della vita pubblica della città da quando vi si trovava il Foro Romano. Lo statuto pubblico della piazza rimarrà una costante della vita sociale italiana. Ancora oggi scendere in piazza vuol dire manifestare pubblicamente un'opinione. E del resto anche nella fresco di Giotto si annuncia un conflitto. Francesco esce dalla comunità recintata dei ricchi per esaltare i poveri e la povertà stessa. E potremmo dire che in Italia non c'è paese o città, per quanto piccolo o appunto povera, che non abbia una piazza capace di ricordarci che siamo una collettività, che abbiamo un progetto comune. Quel progetto si chiama Bene Comune. Passata la pandemia, almeno questa ondata di pandemia, se non vogliamo essere troppo ottimisti, quello spirito di comunità che veniva fuori per contrasto, come una ciambella a cui attaccarsi nei giorni durissimi del confinamento. Passerà, come lacrime nella pioggia, per citare un grande classico del cinema contemporaneo, o ancor peggio sarà divorato dagli spiriti animali di un capitalismo selvaggio che sono tornati scopertamente in superficie. Quello che vorrei proporvi, con tutta la contraddizione di una passeggiata che non si fa insieme, che non possiamo fare insieme fisicamente, che facciamo virtualmente, è invece un'esperienza di riconciliazione, uno degli inattesi regali della pandemia. Mi sono trovato a fare pace con la mia città, Firenze, una città difficile, una città nemica, diceva Franco Fortini, che era fiorentino, una città volgare, ha scritto Antonio Tabucchi, una città prostituita a un turismo che la uccide, amministrata orrendamente, immemore della generosa longimiranza di figli come Lapira, Milani, Balducci. Ma nei giorni del confinamento qualcosa sembrava rinato. Piazze, strade, erano di nuovo luoghi di comunità, luoghi in cui tornavamo ad essere umani. E qua, nel quartiere in cui vivo, l'Oltrarno, mi è capitato di camminare guardando di nuovo, non di non essere investito da una macchina o trovato dai turisti col trolley, ma guardando in alto, guardando le architetture, guardando le finestre, guardando le lapidi che ricordano come i nostri congiunti non sono solo i parenti che potevamo andare a trovare, ma sono anche i congiunti spirituali che hanno condiviso lo spazio in cui noi oggi viviamo. Qua, intorno alla mia casa, nell'Oltrarno Fiorentino, San Filippo Neri, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Francesco Ferrucci e Galileo, Elisabeth Barber Browning e Alphonse Delamartine, Giuseppe Bonaparte e Georgina Crawford, Francesco Guicciardini e Dostoievski, Antonio Meucci e Paolo dal Pozzo Toscanelli, Ugo Foscolo e Anton Francesco Grazzini in Lasca, Andrei Tarkoschi e John Popennessi, uomini di tutti i tempi che hanno vissuto tra queste pietre. Uno di questi abitanti dell'Oltrarno, Carlo Levi, che ci ha scritto Il Cristo si è fermato a Eboli, ha spiegato una volta, lo cito, che forse è proprio questo il primo dei caratteri che distinguono l'Italia, quello di essere il paese dove si realizza, in modo più tipico e diffuso e permanente che altrove, la contemporaneità dei tempi. Tutto è avvenuto e tutto è nel presente. Ogni albero, ogni roccia, ogni fontana contiene dentro di sé gli dèi più antichi. L'aria e la terra ne sono impastate e intese, con gli dèi, gli uomini e i loro fatti. Sui solciati delle strade, sugli asfalti delle automobili, risuona l'eco di passi innumerevoli. Il macellaio del ghetto di Roma è installato nella cornice di marmo dell'ingresso sacro a una qualche divinità pagana. Il ristorante dove uso cenare ai tavoli tra l'opus reticolatum e i rocchi di colonne del teatro di Pompeo, all'incirca là dove Cesare cadde. Questa compresenza dei tempi, come la chiamava Italo Calvino parlando di Carlo Levi, che dava a Levi la possibilità di trovare nell'antico la chiave di comprendere il nuovo, sono per ora di Calvino, è ciò che in qualche modo ci ha soccorso in questi giorni. Il dialogo incessante con gli spiriti magni che hanno gioito e sofferto agli angoli delle nostre strade. Quello che la teologia cattolica chiama la comunione dei vivi e dei morti e la Costituzione della Repubblica chiama patrimonio storico e artistico. Ebbene, una piazza, Piazza del Carmine, non la vedete ma ne sentite il rumore perché sta dietro quella finestra aperta da cui prendo luce di fronte a me. Una grande piazza trecentesca, prende forma nel 1330, la piazza di un ordine mendicante, i carmelitani che avevano bisogno di spazio all'aperto per predicare, così come ne avremmo bisogno noi oggi per fare lezione in sicurezza, se fosse possibile. È una chiesa, quella del Carmine, che ha una lunga storia, isolo solo un frammento, capirete perché. La Cappella Brancacci, anni 20 del 400, Masolino e Masaccio affrescano questa cappella in onore di Pietro Brancacci, con le storie di San Pietro, e qua Masaccio, artista 25enne che non arriverà ai 27, cambierà il corso della storia dell'arte, porta sull'altare lo spazio e i corpi del mondo reale, come Giotto, più di Giotto, come solo Caravaggio saprà fare dopo di lui, con uno stile puro e senza ornato, dirà Cristofa Rolandino qualche anno, qualche decennio dopo. Masaccio fa capire a tutti, in quella cappella, a pochi passi da qua, che anche la pittura poteva mostrare i prodigi con cui Filippo Brunelleschi e Donatello avevano cambiato il nostro senso dello spazio. Ora, nella pittura di Masaccio, i corpi gettavano ombra, i nudi tremavano dal freddo, i ritratti si riconoscevano nel primo sguardo e, cosa che ci interessa, sugli affreschi del Carmine vediamo la piazza, vediamo le vie di Firenze, vediamo le colline che sovrastano la città, vediamo il bianco degli intonaci e il rosso delle tegole. La città contemporanea, la città dei vivi, è diventata la scena prospettica, abitabile e credibile in cui ambientare la storia sacra. E, un grande affresco di Masaccio che purtroppo è perduto, la sacra del Carmine, mostrava proprio la piazza e la processione della consacrazione della chiesa che entrava nel sagrato, dalla porta principale. Dunque, la piazza e la sua rappresentazione all'interno di un edificio della piazza stessa, in un gioco di specchi che alla fine rifletteva che cosa? L'identità di una collettività, di una comunità. Una storia, e questo è particolarmente importante, della quale con Masaccio sono protagonisti gli ultimi, gli scartati, si direbbe oggi con la lingua di Papa Francesco. Tra tutti ha una indimenticabile madre povera che negli affreschi chiede l'elemosina col bambino mezzo nudo e sgraziato, una sorta di Madonna della strada che tende le mani e con tutta la dignità del mondo guarda San Pietro che non è capace di sostenere lo sguardo e guarda in terra. Rappresentare la realtà significa dire la verità. La stratificazione di cui parla Levi fa sì che accanto a Masaccio in questa piazza vivano e si intrecciano infinite storie, ne dico solo due fra le tante possibili, proprio dall'edificio da cui vi parlo. Nell'edificio di cui vi parlo nel 1868 vengono fondati i corazzieri, sono le guardie del Presidente della Repubblica e nascono come un reparto di carabinieri, lo ancora, che devono seguire, scortare il re. Sono gli anni di Firenze capitale, la loro strana uniforme con la corazza e ammituazione dei corazzieri napoleonici. Qua, il 29 aprile del 1868, da questa porta carraia accanto alla porta della Basilica del Carmine, il convento è stato trasformato nel frattempo in una caserma, esce per la prima volta un reggimento di corazzieri. Pochi anni dopo riprende sopravvento l'identità operaia della piazza. In questo stesso edificio, negli spazi della caserma, si svolge un'enorme assemblea operaia. Il quartiere dell'Oltrano è sempre stato un quartiere povero, un quartiere operaio, un quartiere di lavoratori fin dal Medioevo. Qua, nel 1902, 15.000 persone che debordano in questa piazza si riuniscono per decidere come reagire a un licenziamento di massa nella fonderia della Pignone, quella che poi diventerà il nuovo Pignone e tutt'oggi è la più grande fabbrica di Firenze. Vengono licenziati gli operai, si decide uno sciopero generale e proprio nella caserma, dopo che si è sciolta l'assemblea, vengono allogati gli squadroni di cavalleria che dovranno, con 300 guardie armate, tenere a bada i previsti tumulti di una Firenze operaia che è così diversa dall'immagine del Santino del Rinascimento che conosciamo. Esattamente davanti alla porta della caserma, caserma luogo di assemblea e luogo di militari, si trova un tabernacolo. L'Oltrano è pieno di tabernacoli, per ragioni di fede, ma forse anche per le ragioni più frosaiche di cui parla Giacomo Leopardi nello Zibaldone, in cui scrive che a Firenze non v'accanto di edifizio o strada si pubblica o frequentata, dove non si veggano, non dico croci, ma lunghe file di croci, dipinte nel muro a basso in modo di siepi, il che è ben ragionevole, in quella sporchissima e fetidissima città, per le cui amabili cittadini ogni luogo nascosto patente è comodo e opportuno per i loro bisogni, e soprattutto ogni cominciamento o entrata di viottolo o di via, onde nessun luogo è sicuro da tali profanazioni, senza tali ripari, è gigante murali, i tabernacoli che impediscono di orinare al muro per un residuo rispetto della trascendenza, se non delle regole, della civile convivenza. Anche questi odori e anche queste sensazioni appartengono al camminare nelle nostre piazze. Quel tabernacolo che sta proprio di fronte alla porta della caserma è particolarmente importante, perché è un tabernacolo trecentesco, in cui vediamo la Vergine, un certo numero di Santi, lo stile ci dice che l'autore è il maestro di San Martino a Mensola, che non sappiamo ancora come si chiamasse veramente, ma c'è un particolare, particolarmente interessante, dopo un secolo alcuni nuovi abitanti del palazzo fecero cancellare, vollero eradere i ritratti dei vecchi donatori e chiesero a un pittore molto vicino alla bottega di Ghirlandaio, siamo alla fine del Quattrocento, di metterci i loro volti, e ci sono due volti di donna, li troverete facilmente, navegando sulla rete, una col naso adunco, l'altra bella è in carne, che si pavoneggiano fingendo di pregare e in realtà esibendosi nella piazza. Quel palazzo è un palazzo antico, è un palazzo sul cui, che ha una lunga storia, che nel Cinquecento ospitava uno dei più bei giardini dell'Oltrarno, è un palazzo sulla cui parete una lapide ricorda, la leggo, in questo palazzo, la potrei leggere dalla finestra, in questo palazzo ritrovo di patrioti, di ogni parte d'Italia, l'11 ottobre 1827, da genitori inglesi, nasceva con anima italiana Georgina Crawford, che divenuta moglie di Aurelio Saffi e compagna a lui nel pensiero e nell'azione, per civili e familiari virtù, si rese in signa fra le donne italiane propugnatrice del risorgimento nazionale. È una rara memoria femminile nel cuore di Firenze, è su un muro che Ottone Rosai negli anni venti del Novecento dipingerà ossessivamente infinite volte, ed è il muro di un palazzo che nasconde una storia che invece non ha trovato, non per caso, una celebrazione con delle lapidi, ed è una storia che per conoscere la quale non basta camminare nella piazza, ma bisogna studiare come succede agli storici dell'arte e a quelli che si occupano della storia della città. In quel palazzo, divenuto come ancora oggi sede di un convento femminile, il cardinale Dalla Costa nel novembre del 1943 chiese alle suore di nascondere un gruppo di donne ebrei con i loro figli. C'è un toccante e terribile rapporto della madre Sandra, che si chiamava al secolo Esther Busnelli, che racconta al cardinale Dalla Costa come andò a finire. Di notte i nazisti e i fascisti, loro complici, bussarono con forza alla porta e strapparono queste donne alla pace di quel convento. Alcune riuscirono a fuggire, poche, ma altre non ci riuscirono. E questa suora scrive, in presa diretta, descrive una scena straziante. Stacca il piccino dal suo seno, una di queste donne, lo stringe come una forsennata, si prende la testa fra le mani e grida come una belva. È impossibile. Cosa abbiamo fatto di male? Io impazzisco. Sembra veramente in preda a un accesso di follia. Si alza, ci segue in ebetita, non ha ascolto. La portano via. Salirà su un treno e morirà in un campo di sterminio della Germania nazista. La reverenda madre finisce il suo racconto dicendo «Signore, quanto sono impenetrabili i tuoi disegni. Noi non li abbiamo compresi». Il libro da cui ho tratto questa memoria è il libro di Emanuele Pacifici, il figlio di una di queste donne che ha un vago ricordo di sua madre, che trascorse le ultime ore della sua vita ancora con qualche speranza, qui davanti ai miei occhi, in questa piazza in cui oggi quasi nessuno la ricorda. Ebbene, la retorica della pandemia, la retorica del dopoguerra, la retorica della ricostruzione, tutto bene, ma passeggiando tra le nostre antiche pietre si possono trovare molti, davvero molti spunti per rimettere tutto in una prospettiva storica, ritrovandoci come collettività e ritrovando insieme una bussola. Grazie.